Allora, io sono venuto con tutta una serie di documenti, semplicemente per dire che di fronte a questi problemi bisognerebbe essere tutti quanti documentati e devo dire francamente che qui abbiamo sentito molto sfoggio di opinionismo, ma di sostanza documentare ce n'è molto poca, anche se molti interventi sono stati da me apprezzati. È chiaro che non vi farò vedere tutti questi libri anche per la semplicissima ragione che siccome io faccio le mie chiacchierate giornaliere su Facebook, questi libri li farò vedere e li leggerò nei capitoli che volevo leggere qui. Però i libri vi li voglio far vedere perché è importante conoscere certe cose. Intanto abbiamo parlato appunto di pericolo di guerra civile ad esempio e allora io inizio con una domanda. Quando mai l'Italia non è stato territorio di guerra civile? Io vorrei che qualcuno mi dicesse un decennio della storia d'Italia che è la vitalità della storia d'Italia. La storia di Roma, della Roma repubblicana è stata una storia di guerra civile, la storia dell'impero romano è stata una storia di guerra civile. Quella è la grandezza, è quella della grandezza. Perché ci sono degli uomini che ci sono affrontati, che si sono affrontati sempre giocandosela tutta. E se la sono giocata tutta personalmente, individualmente, giocandosi sistematicamente, la pelle è quella dei propri familiari. Siccome io poi derivo da un momento in cui ero bambino ma era nel pieno di una guerra civile, ho avuto questa bellissima esperienza. vista circa 50 anni di distanza, devo dire che ringrazio il mio Dio, che non è ovviamente un certo tale, io sono fedele al mio Dio che si chiama Priapo e alcuni di coloro che stanno qui, che sono amici, sanno perfettamente che io sono sempre stato molto devoto al grandio Priapo, che giustamente... E sacrifici stesso! Non solo, ma giustamente una grande divinità che era giustamente venerata dai romani, personaggi che io ho sempre stimato. Non sbaglio? Assolutamente! Oh! Dioniso e Priapo, direi. Allora, prima di fare qualche altra piccola chiacchierata, vi voglio leggere due barzellette, perché in questa maniera cerchiamo di rompere un po' questo clima. Una è molto bella, si vedono due immigrati, eccole qui due immigrati, allora uno dice, ecco i soldati di Allah, sbarcare secretamente a Napoli per occupare l'Italia, ma dove vai? Per la barba del profeta, mi hanno appena rubato la valigia. Questa è la realtà di questo paese, la gente non ci crede, ma è questa la realtà. E l'altra, che è molto più bella, che è indicativa di un certo clima che noi stiamo vivendo tra l'altro adesso, con le polemiche sui vaccini e quant'altro. Sentito Libero, Libero è il nome dell'altra persona, dice, i negri portano la malaria, è una bufala, coglione, quelli portano solo alluvioni e terremoti. Allora, siccome prima ci hai parlato anche di scienza, siccome io sono sempre stato uomo di scienza e continuo a rimanere un uomo di scienza, la scienza è qualcosa che si deve stabilire attraverso delle equazioni a priori. Per una, qualsiasi ipotesi che tu devi fare, di carattere scientifico, valgono tutte le equivalenze possibili e immaginabili. Può anche darsi che fra 50 anni qualche scienziato farà una strana similitudine tra l'aumento di temperatura in Italia e l'arrivo di questi migranti. Perché non saprai mai, cioè le grandi scoperte, soprattutto quelle più recenti, della fisica postquantistica, sono di questo tipo. E siccome noi le questioni le abbiamo ampiamente vissute, su questo argomento ci potrebbe anche fermare un momentino. Tutto quello che noi diciamo oggi è suscettibile di critica. A cominciare del fatto che non sappiamo mai bene chi ha programmato quello che sta avvenendo. Intanto chiariamo un altro punto. Dal punto di vista di un'analisi di carattere scientifico devi stabilire esattamente quali sono i parametri di riferimento. Perché quando noi parliamo di immigrazione non intendiamo quelli dell'est europeo che sono venuti in Italia a frotte e che obiettivamente sono molto ben integrati e fanno dei lavori importantissimi. Ad esempio l'edilizia è in mano rumena. Esatto. E c'è moltissime donne dell'est che fanno le badanti, poi fanno le caveriere, si sposano, fanno le prostitute e fanno anche i figli, viva Dio. Allora com'è che noi di questo fenomeno qui non ne vogliamo parlare? Ma è un fenomeno di immigrazione come gli altri. Allora evidentemente è una questione di immagine, come ha detto uno dei relatori qui, è una questione di impressione. Da che cosa siamo stati noi impressionati? Da una specie di invasione che è vissuta come invasione e che è quella che ci fanno vedere alla televisione. Arrivano dei gommoni, diciamocelo bene, arrivano dei gommoni pieni di facce scure. Ora, primo, non abbiamo mai visto da dove partono questi gommoni. No, sappiamo che esiste una realtà esistenziale che è tragica. Ho letto delle storie di ragazzi negri, africani che ne hanno passate di tutti i colori per arrivare in Libia. Però dopo quello noi non abbiamo visto più niente. Noi abbiamo visto, se no, qualche fotografia dove ci siano queste persone che gremivano un gommone col quale è molto se riesci a fare 100 metri. Queste cose le dobbiamo dire. Fatte in Cina, oltre tutto. Oltre tutto. Infatti un ammiraglio disse, se noi vogliamo non far venire queste persone, so io come si fa, affondiamo o attacchiamo la nave che porta questi gommoni, che sono fatti apposta perché dopo il primo viaggio si rompono e sono cinesi, dopodiché distruggiamo e non c'è più l'invasione. Perché? Perché noi abbiamo gli occhi per vedere e sappiamo perfettamente qual è la manipolazione che c'è dietro a queste operazioni. Solo che non riusciamo a capire bene, o io ci sto attento, a chi mi conosce sa che su queste cose ci sono molto attento, non sono ancora riuscito a capire bene qual è la vera manovra manipolativa, però siccome io ho portato dei documenti, siccome io sono molto documentato, questo è un libro, vi dico anche delle pagine, circa 500 pagine, che è stato stampato, questo è il sesto rapporto del 2010, non l'ho capito, certamente, Caritas di Roma, in collaborazione con Camera di Commercio Provincia di Roma, Osservatorio Romano sulle Migrazioni, è del 2010, è il sesto rapporto, chi si interessa delle migrazioni? Chi è il primo muovens? Indovina un po', quello che muove le finanze internazionali, ma sempre, il sempre eterno. In queste due giornate dei convegni non è mai emersa questa strana figura, dalle mani adunche, che non sono quelle persone che noi sempre accusiamo con sede a Wall Street o alla City, ma sono altre persone che sono molto più vicini e sono molto più interessate dal punto di vista economico-finanziario e questo è un elemento che direi significativo. Non solo, ma anche etnico, si stanno procacciando dei nuovi clienti. Oh, e allora, tanto questo è il primo aspetto, anche perché noi sappiamo molto bene che le conversioni, soprattutto convertire qualche islamico al cattolicesimo rende molto. come sanno tanti, come dire, tanti personaggi vestiti di nero, no? Tant'è vero che ricordo quella battuta di quel tale che era un esponente di un paese africano, dice, quando loro sono venuti qui, loro avevano la Bibbia e noi avevamo le terre. Adesso noi abbiamo le terre. La seconda cosa che riguarda, poi, come vi ho detto, queste cose poi io le leggerò, parlando di geopolitica ci dobbiamo riferire ai grandi geopolitici, allora uno dei più grandi è stato Anton Zizka, che ha scritto, ad esempio, questo libro negli anni 50, Africa. Allora, per sapere che cos'è l'Africa, non basta andare a vedere quello che sta succedendo oggi, ma quello che c'era, che c'è e che ci potrebbe essere, è qui, è un libro del 1950. Il Zizka ha poi scritto un altro libro che ho portato qui, che è estremamente interessante, anche questo degli anni 50. Negli anni 50 Zizka ha scritto questo libro, Pale per due miliardi di uomini, in un momento in cui erano tutti terrorizzati sull'aumento della popolazione. E lui ha scritto una cosa da grande competente, da grande competente, guardate che c'è spazio a alimentare per una marea di persone, aveva ragione, c'è la verifica storica, siamo 7 miliardi, e se è stato possibile passare da 2 miliardi a 7 miliardi, è possibile arrivare da 7 miliardi a 10 miliardi e ci arriveremo. Dico queste cose. Non è che siamo in tanti, non scoppia la terra. No, non scoppia evidentemente, ci sono delle leggi di natura, c'è della gente che non vuole che noi comprendiamo perfettamente quali siano queste leggi, perché se no 2 miliardi sembrava che avremmo riempito tutto, non abbiamo riempito assolutamente nulla. A tutt'oggi noi possiamo tranquillamente aumentare. Allora tutto il mito della scarsità, tutto il mito indotto. Esattamente, sono miti falsi, dietro i quali c'è sempre e soltanto… La speculazione. Esattamente, le stesse persone, sono loro che immettono nella società attraverso, l'hanno detto tanti anche prima di me, questi miti. Allora qual è la soluzione? La soluzione è semplicemente individuare queste persone e senza farci fuorviare dall'arrivo di 100, 1.000, 1.000, 1.000 di queste persone qui, colpire queste persone, perché sono le uniche persone che noi possiamo colpire, questa è la differenza, è che fino ad oggi hanno operato sotto falso nome. L'ultima cosa che mi interessa far vedere, qui c'è un numero di geopolitica, questa rivista qui è eccezionale, è un numero di geopolitica degli anni 40, del 39, qui ci sono delle informazioni importantissime a dimostrare che nel 1939 in Italia si studiava e si sapevano esattamente le cose. L'ultima cosa che vi voglio far vedere, non la leggerò adesso, c'è un bellissimo articolo di Lessona in questa rivista, Lessona è stato ministro delle colonie italiane, Lessona ha scritto qui in questa rivista che è il numero 37 del 1979, quello che era stato fatto, quello che era stato programmato per l'Africa orientale, che nessun altro ha mai fatto, che noi abbiamo fatto nel giro di tre anni, poi ce l'hanno portata via, perché davamo fastidio per questa ragione qui, semplicemente perché mentre gli altri hanno continuato a rapinare, perché hanno sempre rapinato, noi eravamo gli unici che costruivamo lì e se avesse avuto la possibilità l'Italia di agire in Africa, ora noi oggi non avremmo nessuna invasione, basta leggere l'articolo di Lessona che c'è scritto in questa rivista. Basta ricordare il cinema ad Alissa Beba che è stato nominato bene culturale mondiale, tanto per dirne... Ma i progetti, quello che c'era e quello che è stato realizzato non ci hanno permesso di farlo. Ma ancora il cinema ci andavano solo gli italiani, non li facevano l'Italia? No, la cosa è molto più complicata. Eh sì, se c'è un paese... No, adesso lo chiammi lei. ...dove gli italiani tutto erano forché razzisti è stato proprio l'Eritrea, perché ho conosciuto moltissimi Eritrei, Italo Eritrei che erano figli di italiani. Ecco, sei stato l'unico paese al mondo dove gli italiani hanno dimostrato che non erano razzisti. Sono questi, sono questi che vogliono il razzismo, sono i soliti, sono quelli di Wall Street, sono sempre loro, sono sempre e soltanto loro. Noi la soluzione ce l'avevamo. L'abbiamo proposta, non ci hanno permesso di portarla a terra. The last but not the least, come al solito. Giorgio, dichiara, fai una dichiarazione. Fai una dichiarazione. No, nessuno, arrivederci. Sempre a lode a... Lode apriamo.